Eccellenza, siamo arrivati alla Pasqua. Il messaggio che si può lanciare in un momento di grande difficoltà, quale sta vivendo il nostro territorio. La Pasqua è la vittoria di Cristo sulla morte e della nostra salvezza. Questo senza dubbio è un annunzio liberante ed è un annunzio che può determinare, secondo l'accoglienza che riceve nel cuore degli uomini, può determinare quello che solitamente viene chiamato un'ora stellata di grazia, che è di una validità continua, perché c'è l'eterno vigore del sangue di Cristo che lava, come dice Santa Caterina da Siena, le piaghe fetide della nostra vita e della nostra storia. Però l'annunzio va fatto non soltanto come un'enunziazione verbale, ma l'annunzio va fatto tenendo conto anche che qualsiasi annunzio nel campo delle verità e che ci sono date per fare tutt'uno con la realtà e per essere non solo interpretazione, ma per essere anche guida di condotta, presuppone l'atteggiamento della persona. Per cui è la persona che deve porsi nella condizione migliore di capire, per quello che è possibile, di capire e di vivere l'annunzio che riceve.